IMSS arriva il Box Front Live, un nuovo canale per facilitare la comunicazione tra i cittadini e l'istituto. Vediamo insieme come funziona. Ciao amici di Radio Uci, io sono Giulia e in questo Focus Previdenza parliamo dello sportello Box Front Live, un nuovo servizio ideato da IMSS che permette ai cittadini di interagire più facilmente con l'istituto. Attualmente si tratta di un servizio sperimentale, in funzione solo in Basilicata e nello specifico nella sede IMSS di Matera, ma non si esclude che possa essere reso agibile in tutte le sedi del territorio nazionale. Si tratta di una vera e propria postazione all'interno della sede IMSS, dove chiunque può collegarsi e interagire con i funzionari dell'istituto di tutti gli uffici d'Italia, attraverso una semplice videochiamata. Il Box Front Live, infatti, è dotato di un PC con videocamera, schermo touch da 40 pollici e stampante scanner. In questo modo il cittadino può inviare e ricevere i documenti in tempo reale. In generale l'obiettivo del progetto è quello di migliorare la qualità delle interazioni tra utenti e istituto, offrendo un nuovo servizio, efficace e soprattutto tempestivo, che sia capace di rispondere ad ogni esigenza. Per usare lo sportello bisogna prima di tutto prenotare l'accesso alla sede IMSS di Matera, utilizzando le modalità tradizionali, fissando quindi il giorno e l'orario. Successivamente ci si potrà presentare alla sede territoriale e accedere al Box Front Live per la riunione virtuale. E per ora è tutto, al prossimo Focus!